Simone, ci conosciamo da tanti anni, è bello vederci qui a Venezia, a Lido, Corradi intercetta da oltre sette anni questo Festival del Cinema, che è il primo evento che si fa in questo periodo un po' strano e siamo in un tuo testo di architettura, nel senso che hai lavorato a riportarlo agli splendori antichi, perché è un testo eclettico, l'hotel Ausonia Ungaria e tu ci stai lavorando, hai consegnato e quindi conosci benissimo anche questo luogo, partirei da questo luogo e poi andrei a raccontare il nostro vas d'elezione, l'outdoor, quindi partiamo dall'Ausonia. L'Ausonia è due battute, è un luogo estremamente iconico, storico, dove tante stratificazioni lo rendono performante, magico, perché c'è una facciata come tu sai straordinaria, Tilson nella parte dietro, gli interni firmati da noi, dove poi le foto, le grandi affisce sono di Maurizio Marcato, per cui un altro grande artista della fotografia e tutto l'insieme parla di unicità, di differenza, di meraviglia e permette all'ospite di portarsi via un ricordo di questo luogo straordinario. Quindi del cinema in un certo senso, perché a Lido di Venezia lo colleghi al cinema. Ci interessa un tuo punto di vista, ne abbiamo parlato anche altre volte, di questo luogo che non ha più confini o meglio ha confini che cambiano, che è l'outdoor, nel tuo progetto sia domestico, dell'accoglienza, dell'ospitalità, ma proprio la tua idea di come stia cambiando questo campo di prova del progetto. Alla luce di tutto il casino che ci ha tanagliato negli ultimi mesi, tutto sta mutando, il mondo non cambierà le sue regole, però un'attenzione al mondo esterno è ancora più forte. Io sto lavorando molto sul tema outdoor con spa che diventano più importanti fuori che dentro, quindi con percorsi, ora sto lavorando a un tema su una grossa e importante struttura umbra dove il parco tematico spa si muove su 5.000 metri quadrati, quindi c'è tutta una serie di percorsi di rigenerazione psicofisica che si muovono nel verde, nella natura e credo che il rapporto dell'uomo con la natura adesso sia ancora più fondamentale. C'era un grande architetto che è ancora con noi, Emilio Ambarz, è stato il padre dell'architettura verde, ora tanti parlano di... Nonché autore della notissima mostra al MoMA del 70. Sì, sì, però tanti non si ricordano di lui, ma è un grande maestro che ha dato il là a tanti interventi legati alla trasformazione. Ricordo il lungomare di Rimini con queste onde verdi, progetti... quindi un visionario che apprezzo moltissimo e il rapporto con l'outdoor parte un po' da situazioni di riflessione come quelle di Emilio, perché la natura ha accolto i nostri progetti di architettura e abbiamo fatto veramente tanto male, perché alcuni di noi hanno lavorato bene con Senno, creando degli edifici, delle strutture iconiche altamente performanti, altre un po' meno, per cui questo mondo è ammalorato, dobbiamo tornare dentro la natura, vivere dentro la natura anche per una questione fisica, chimica, perché noi abbiamo bisogno del sole, della luce, della pioggia, di esporci ai raggi di questa meraviglia di sole per vivere meglio e vivere più a lungo, quindi forza natura, forza outdoor. E anche il mercato immobiliare se ne sta accorgendo. Senti, tu lavori tanto con le aziende, è importante per creare dei codici del progetto, avere dei codici di catalogo, cioè delle aziende che lavorino con i progettisti, che seguono alcune visioni, ma che poi producano fisicamente oggetti come questi dove siamo oggi. Allora, hai detto sto lavorando sull'outdoor, piacerebbe capire, sapere senza fare nomi, ma su che tipologie stai lavorando e quanto le aziende che hai sempre conosciuto e portato in determinati successi e riconoscimenti, ti stiano seguendo in questo momento. Tante aziende anche che non si occupavano di outdoor hanno desiderio di fare qualcosa per questi spazi. Io sto lavorando sul prodotto industriale con molte aziende che hanno materiali da materiali naturali a polimeri plastici, materiali legati alla rigenerazione della materia, da strutture a oggetti minimi, fino a parlare di outdoor in termini architettonici, quindi una globalità. Sai che io amo creare delle situazioni spaziali involucrate e involucranti, ma che abbiano identità e portino fuori sempre il mio segno che è un po' rotondo, perché amo la natura, amo come te le fanciulle, anche se sono un devoto, come tu sai, la moglie che è sempre presente con la sua meraviglia, per cui tutto parte un po' da lì. Senti, un'ultima domanda, questa sugli oggetti, sul progetto, però come sai e come hai detto anche, cambiano anche le funzioni, hai parlato di spa all'aperto, ma è ovvio che si parla di lavoro all'aperto, si parla di relazione, si parla di cucina all'aperto, tante cose stanno cambiando, cose che per la cultura italiana forse erano in alcune regioni del sud già normali, lo stanno diventando e stanno avendo una rilettura in questo senso. Come ti stai aggiornando anche nell'ospitalità? Ti ripeto, sto cercando di ritornare dentro la natura per costruire nuovi codici che rispondano ai quadri esigenziali che ci stanno intorno, recuperando spazi dimenticati, perché tutto ciò che noi sviluppiamo all'interno di spazi, se pensi bene, può essere sviluppato all'esterno, noi abbiamo bisogno di ricoveri, ho finito un lavoro interessantissimo che tu conosci a Matera, ho lavorato spazi dell'anno 1000 dentro queste grotte straordinarie scavate dall'uomo per proteggersi dalle intemperie. Con le migrazioni, perché una volta Matera era dall'altra parte del canyon, poi sono stato recentemente qui. Nel ciasso caveoso, questi luoghi erano fatti dall'uomo per proteggersi dalle grosse intemperie, però appena finito quello che doveva finire l'uomo usciva fuori, quindi noi dobbiamo riappropriarci di questi spazi esterni con vigore, cambiando certi dati numerici di gestione logistica per far sì che gli spazi esterni diventino un continuum straordinario e funzionale di ciò che accade dentro. Senti Simone, non voglio perdere un'occasione, tu hai scritto libri, sei anche un teorico, hai lavorato tanti anni in università con i grandi maestri, vorrei farti una domanda secca e mi piacerebbe avere una risposta secca, visto che parliamo di natura, che cos'è per Simone Micheli il naturale e l'artificiale? Esiste ancora questa contrapposizione o va riletta alla luce di quello che abbiamo detto? La risposta secca è il naturale equivale a meraviglia e a verità. Grazie